Questo è un luogo di ambiente, dove tutto è diverso. Giovedì 30 maggio è iniziato a Madrid l'incontro annuale del club Bilgelberg. A partire dalle 5 del pomeriggio, gli ospiti hanno cominciato ad arrivare all'hotel Eurostars Mirasierra della capitale della Spagna, tra un certo imbarazzo da parte della polizia di Sanchez, che si è resa conto che questa volta i livelli di segretismo non erano quelli desiderati. All'incontro è prevista la partecipazione di oltre 130 individui considerati tra i più influenti del mondo occidentale e il contenuto dell'agenda è marcatamente politico, con un'attenzione particolare ai conflitti in corso, al ruolo della Russia e della Cina sulle scene internazionali e, ovviamente, alle prossime elezioni europee e negli Stati Uniti. Ma la preoccupazione principale di questa banda, secondo le prime indiscrezioni di alcuni spagnoli invitati alla festa per la prima volta, sarebbe la crescita inarrestabile della cosiddetta disinformazione, così come la creazione di misure di controllo per contrastarla. Il problema per i loro signori è che tre quarti del mondo non credono più alla loro propaganda e che le cospirazioni che prima riuscivano a compiere nella clandestinità adesso le devono fare sotto gli occhi di tutti noi. e questo, certamente, non è la stessa cosa.